8 marzo di protesta e di sciopero per le donne toscane in nome dei diritti femminili e della lotta alla violenza di genere. A Firenze, in tante, dal mondo della scuola, della sanità e dei trasporti, nel giorno della festa della donna, si sono radunate in Piazza Santissima Annunziata, con striscioni, sciarpe viola e installazioni allegoriche per chiedere libertà e rispetto, soprattutto sul lavoro. Una risposta alla mobilitazione lanciata dalla rete non una di meno in 50 paesi del mondo e che in Toscana ha visto una manifestazione anche a Siena. Disagi tutto sommato limitati per lo sciopero, con la cancellazione di alcuni voli dagli aeroporti di Firenze e Pisa e di alcuni treni regionali, ma il valore della giornata è soprattutto simbolico. Oggi è una giornata di protesta, è una giornata di celebrazione, ma in particolare, non una di meno, vuole portare, diciamo, nelle piazze le rivendicazioni contro lo sfruttamento, l'oppressione e la violenza di genere. Da un lato le proteste, dall'altro l'arte. Agli Uffizi, l'8 marzo, è stato scelto per l'inaugurazione della mostra dedicata a Plautilla Nelli, suora dominicana, vissuta nel Cinquecento e considerata la prima pittrice fiorentina. Plautilla, davvero, credo che possa con questa mostra essere riconosciuta come una protagonista assoluta, di primissimo rilievo di questa convent creativity e di questo connubio indissolubile tra l'essere femminile, essere donna, l'essere suora, religiosa e l'essere artista. A celebrare le donne sarà poi anche lo sport, con la 32esima edizione della corsa podistica femminile Rosa Mimosa, presentata in Consiglio regionale, che si disputerà l'11 marzo sulle colline fiorentine con percorsi competitivo e non competitivo, aperto alle donne di tutte le età. La campagna per le primarie del Partito Democratico entra nel vivo anche a Firenze, dove oggi è arrivato il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina in un convegno dal titolo Non c'è sinistra senza PD. Martina, che dopo Firenze si è recato a Tavarnele Valdipese per un altro convegno, stavolta sull'agricoltura, appoggia la candidatura di Matteo Renzi, che il 30 aprile sfiderà Orlando ed Emiliano nelle primarie del PD. Guardi, io penso che in questi due mesi che abbiamo davanti, da qui al 30 di aprile, si capirà quanto è importante in questo Paese che un partito faccia un congresso aperto, partecipato come quello che stiamo facendo noi, che inizia proprio nei prossimi giorni. Io vorrei farvi osservare che siamo gli unici a mettere in campo uno sforzo di partecipazione, di confronto, di condivisione così largo e partecipato. Naturalmente sostengo la candidatura di Matteo Renzi, porto il mio contributo a questa proposta, sono pronto a fare il lavoro che serve per far capire che questo sforzo che stiamo compiendo riguarda molto l'Italia, non riguarda solo noi, riguarda molto la qualità della democrazia italiana, riguarda molto la forza delle istituzioni, il cambiamento possibile che noi possiamo generare soprattutto da qui ai prossimi mesi di fronte alle grandi sfide che l'Italia ha davanti a sai, il lavoro prima di tutto, la grande questione europea, noi siamo concentrati su questo. Presente al convegno anche il vice segretario del PD regionale, Antonio Mazzeo. Noi riteniamo che all'interno del PD invece ci siano tutte le peculiarità per continuare l'azione che abbiamo messo in campo, penso ai diritti civili, penso ai temi del lavoro, alla nuova occupazione, penso alla più grande operazione di ridistribuzione, è stata quella degli 80 euro, c'è chi ha dileggiato tutto questo e ha deciso di lasciare la nostra casa e chi invece tenta di declinare al futuro i valori della sinistra, è quello che facciamo oggi qui con Maurizio Martina, noi siamo molto contenti della scelta fatta da Matteo Renzi di mettere, di costruire un percorso insieme ad altri, di metterci in cammino insieme anche a chi non ci aveva sostenuto tre anni fa. Aperta un'inchiesta sul crollo delle mura della Villa Medicia di Poggio a Caiano, il reato ipotizzato dal Tribunale di Prato è quello di crollo colposo. La Procura, due giorni dopo il crollo dei 30 metri di muro del monumento patrimonio UNESCO a seguito dell'ingente quantità d'acqua caduta nella serata di lunedì, intende far luce sulle cause che hanno portato al disastro e alle relative responsabilità e negligenze sugli eventuali mancati controlli. Il titolare del fascicolo, aperto con l'ipotesi di reato di crollo colposo, è il sostituto procuratore Laura Canovai. Intanto la regione toscana porge la mano in aiuto del comune di Poggio a Caiano, con la decisione di stanziare tra i 70 e i 100 mila euro per il ripristino delle mura della Villa, attingendo dai soldi che avrebbero dovuto essere destinati ai vitalizi dei consiglieri regionali e che ora verranno raccolti in un fondo a parte. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni, dopo la richiesta avanzata dal consigliere Nicola Ciolini, di contribuire alle spese per i danni. I nostri 70-100 mila euro, ha dichiarato Gianni, li metteremo perché sentiamo che tutta la Toscana è vicina a Poggio a Caiano, a suoi abitanti, alle sue istituzioni, nel ripristinare uno dei beni dell'umanità. Infatti la Villa è fra le 12 vincolate dall'UNESCO.